In queste ore le aziende agricole del Ragusano stanno subendo gravi danni a causa del forte vento che ha determinato l'ennesimo duro colpo al settore. È necessario pertanto che il governo regionale, l'assessore all'agricoltura e di bandiera in primis intervengano rapidamente dando sicurezza agli agricoltori. Non si può più perdere tempo e soprattutto non si può più attendere lo Stato all'Europa per risolvere il problema. Lo dichiara il parlamentare regionale del Partito Democratico Nello Di Pasquale, segretario alla Presidenza dell'Assemblea regionale siciliana. Non si facciano manfrine o stucchevoli sceneggiate, continua il parlamentare Ibleo. È assolutamente urgente che gli imprenditori del settore agricolo che operano in questa parte di Sicilia colpita dai forti venti che provengono dai quadranti orientali già domani siano nelle condizioni di avere garanzie per interventi immediati a sostegno dell'economia. È opportuno che la regione faccia la sua parte, concluda, e si faccia autonomamente carico del problema utilizzando lo strumento della finanziaria che stiamo discutendo in questi giorni per prevedere ingenti e adeguate risorse a sostegno degli agricoltori. Dopo il danno la beffa, ha dichiarato il Presidente della regione siciliana Nello Musumeci. Le forti raffiche di vento delle ultime ore hanno assestato il colpo fatale alle aziende agricole del sud-est siciliano già in ginocchio per la spietata concorrenza straniera che ha lasciato in venduta gran parte della produzione orticola. Parecchie serre sono state spazzate vie, molte altre hanno subito gravi danni. Il Presidente ha disposto oggi una dettagliata relazione da parte dei competenti ispettorati per delimitare le aree colpite e chiedere le provvidenze previste per le calamità.